Come il torrente Zafferì, anche quello di San Filippo non sta in ottime condizioni tra discarica a cielo aperto e fitta vegetazione e sotto i viadotti autostradali si rischia l'effetto tappo. I deputati messinesi Pietro Navarra e Franco De Domenico sostengono la candidatura di Davide Faraone alle primarie per la segreteria regionale del PD presentata a Messina. Dopo il no alla riconversione della centrale di Power in inceneritore, il ministro dell'ambiente Sergio Costa punta il dito sull'area industriale di Milazzo in aperto scontro con il primo cittadino. Chiedono di essere ascoltati e vogliono sapere perché non sia stato concesso al Mauro Lico l'indirizzo linguistico, per questo motivo gli studenti hanno avviato l'occupazione. I due pilastri della formazione giallorossa non si muoveranno da Messina, ufficializzato Cataldo, Ungaro e Aldrovandi. I prossimi rinforzi.